la leggenda della capra del mont bel anche questa è una leggenda che mi raccontava la mia nonna cristina tanti anni fa e questa località si trova fra barzana e palazzago una vecchina era rimasta senza legna per poter farla mangiare allora se ne andò nel bosco a raccogliere dei rami secchi per poter cucinare ma quando rientrò in casa trovò che nella camera da letto c'era un grosso caprone che come la vide gli disse meso la cavra del mont bel senza os e senza pelle appena la pelle sul cor e la povera vecchina presa dallo spavento scappò fuori dalla casa e cominciò a piangere disperatamente finché di lì passò un uomo grande e grosso che vedendola piangere gli disse cosa c'è nonnina per piangere e lei gli raccontò tutta la storia allora lui disse alla nonnina se mi cucini una padella bella grande di gnocchi io te la mando via allora la nostra vecchina presa tutta la farina che aveva in cucina e delle uova gli preparò una bacinella stracolma di gnocchi che quando furono cotti vista la fame che aveva in un attimo li sbranò e poi disse alla vecchina adesso vado la in camera e ti mando via il caprone ma come fu dentro nella stanza questo gli si presentò davanti e gli disse meso la cavra del mont bel senza os e senza pelle appena la e l'uomo preso dallo spavento scappò via senza ringraziare la povera vecchina che gli aveva preparato da mangiare e nemmeno pagagliero la quale cominciò a piangere più di prima finché gli si presenta un uccellino del freddo che gli dice ma perché piangi o nonnina allora lei gli raccontò di nuovo tutta la storia e lui gli disse penso io a mandartelo via questo caprone e volò la in camera e disse ma perché te la prendi con questa povera nonnina e il caprone gli rispose me sulla cavra del mont bel senza os e senza pelle appena la perso in cuo e nema prove che ta mangerò e l'uccellino del freddo gli rispose allora io col mio becco torto torto ti scanno via tutto il tuo corpo e il caprone preso dallo spavento salto fuori dalla finestra e scappò nel bosco liberata la camera ritornò in cucina dove intanto la nostra vecchina gli aveva preparato da mangiare tante belle bricioline di pane e dopo essersi saziato ben benone la salutò e se ne ritornò nel bosco e qua finisce la leggenda della capra del mont bel grazie a tutti grazie a tutti